E benvenuti in un nuovo video, allora oggi siamo con Emanuel, Nicolò, e Domenico. Ciao! Ok, siamo su Fortnite, in questa mappa che è bellissima. Ti devi guidare le macchine in prima persona. La abbiamo provato una volta, in prima persona è divertentissimo. Ok, io sto sempre dietro Coda. Poi con gli amici, è super bella. Sì, penso sia una delle mappe da fare con gli amici. Via! Ehi, sopra. Ahia, che mi ha spinto qua. Ciao Riri, no, ha battuto. Eppure io, aspetta, dai, impossibile. Raga, che mi ha chiamato, Riri? No, guardate questo. Guarda Domenico. Domenico, guarda Domenico. Sì, sono partiti, non si fermano più. Sì, è proprio bellissima. Il codice c'è qua sopra, cioè sopra, e poi ve lo scrivo anche in descrizione. SKTTLZ. Ma no, quello è il creatore. È il creatore, è il codice c'è sulla, 1, 2, 6, 7, 1, 5, 5, 2, 6, 7, 1, 5, 5, 2, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. questa mancola parte dove stanno tutte queste luminose cose ai ci siamo di per un parcheggio che camicia che quella la del parcheggio è troppo difficile io sto usando sempre il turbo non c'è una volta che non lo uso quasi sempre c'è sì la maggior parte la vicenda e rimettere a posto allora aiuto non si può fare sì però divertente almeno è bella pure rada mk è facile non troppo questo è bello queste parti così c'è guarda tutte luminose dai nonico sta all'undicesimo giro già ciao nitori praticamente una guerra solo tra ieri la gamba c'è una musica turca c'è sabbill ma guarda caso mi ha fatto anche una mano ma perciò tre volte siamo da vita no 4 no abbiamo fatto tipo 5 round quattro volte a vinti nico tra una volta che l'ho vinto in mano e porca troppa no ma nico non lo so ma dietro la raga stare dietro è un botto a battaglia a parte che ti mette al centro cioè poi supera tutti ma guarda domenico ma ti tocchi no la visuale nico guarda che aprimo guarda nico ma voi non mi piace la mia macchina gialla ah io prima ce l'avevo gialla era affinata con la mia schiena raga prima ce l'avevo gialla addio no guarda qua no dai guarda domenico no raga domenico non si può sopportare super saiyan è insopportabile sono super saiyan questa moralità c'è una volta c'è una volta sono super saiyan ci stava domenico lì si stava camminando era tipo secondo stavo volando era secondo terzo c'era domenico secondo davanti ma bloccato siccome aveva sbattuto aveva sbattuto se era messo se era bloccato davanti ma bloccato se decisione dico io non sapete quando in questa modalità la mia domicile raga sapete ma no stai il sesso il giro no al terzo è quando ha iniziato ma guardate domenico raga all'inizio difficile quando devi entrare tipo nel corridoio dove stavo cosa ho fatto ste rampe e i cartelli è la la parte più difficile se vuole questo è difficile e c'è una musica bellissima raga anch'io che la dolma io erano ce l'aveva turca perfino era di abbrullo raga no raga no raga mi è spaccata la macchina vabbè era risalito ok cosa va vera da mi sono bloccata buonissimo modi recupero domenico d'ammazzo fai bel di parte ecco come non dai ieri abbiamo bloccato male ok dai dove si parla da meni no mi sono bloccato pure io voi stavano dietro no nico lo sentiva intanto mi si è attivato google grande google 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 ho doppiato la lancia la visuale hai doppiato rischi ragazzo cadroio che erano ieri non mi rifiedi ti cancellano i dire ma che cazzo mi prega ooh non stai dire non è fammi i piedi questo video non lo seguite LET'S GO iscrivetevi invece al mio c'è l'ha aperto cosa la caccia nome c'ho l'immaginetta di discord sì che stupido che sei ma di lei dove questo mi ha bloccato a base abituato con domenico e domenico ha bloccata ecco il bb guarda raga porta avete visto pure voi a casa che cacchio ha fatto domenico era secondo c il secondo io sono la razza ma dai domenico ma è schifo che l'ho detto hai visto da ora sono io io l'ho cambiato mamma lo cambiamo di nuovo ma guarda basi sbatto sempre qua dai sbatto dal coso al cartello o cacolo no vado mi ho perso la gara certo e volare assicurata nico ti faccio stare sulla mia vai tra eh beh c'è ancora siccome non è detto eh nico però se te stai fermo così te peggio dai come fa a livello a fare ma andrea ma ancora c'è ancora la macchina c'è la macchina ci vedo di vero c'è la macchina no nico c'è la macchina seriamente guarda che porno come frega radio party reale fine ma non è con milano no è da vabbè nico non è divertente e non la devo smettere di essere sempre dietro tu play again inglese di domenico tu play again non vorrei che vorrei capire nico come fessi sono un gioco dell'ambulante vogliamo che hai chiesto se utilizza il volante colora chiusi per il gioco dei giochi delle macchine e quindi la superata e anch'io questo è il mettere sempre di toccarmi a me la massima domenica arrabbiato 3 2 1 ultimo ritino ha sbattuto l'albero stai di nuovo primo è perfetto dai nico ha sbattuto voto lo permette di superarlo con la coppa ma levati guarda questo peggio di domenico dai mi è esplosa la macchina ma come l'ha detto è bellissimo raga mi è esplosa la macchina corri domenica da volte vi ho io no si vede che è esplosa raga c'è non cammina praticamente sto camminando a piedi sono uscito dalla macchina oh ma ti prendo da me se vuoi venire nella mia ti prendo io voglio nella mia cioè nella tua perché mi stavo quasi per esplodere dai no guarda no non ci credo e me non sei arrivando ciao riri oh la cassa che cazzo no dico no dico io a te dai ti dico io no dai sto aspettando i mali ecco l'auto esplosa di domenico dai non vale vieni domenico sali vai 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 scappa 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 ah ma ti è salito no dai dai si no dai consulti guarda dai ragazzi ma domenico che ci muovono sono sempre vengo ah ma non era l'ultima quanto è bello la testa che è mai l'altro e si muove quanto è bello quanto è bello raga a me si vedono tutti i capelli momento di cambiare dito ma guardate questo capito però sono arrivato secondo non so come stavo camminando al contrario bellissimo quando lo vedi che salite in macchina ma che sono tutti sopra domenico ma che sopra domenico sopra me raga uguale no qualcuno mi fa in passaggio no ma si è rotta pure ora la macchina non ci credo mai lo bloccate perchè non la volevo non prendo la mia macchina corri raga chi prende in passaggio domenico ma io manco persone io si dai io da nico ma nico come cacchio fa un'altra volta dito dito perchè dita dito mamma 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 io non ne ho fatto tipo solo due giri oh vedo domenico è marzo è marzo è buona rompere promette tra gli armi la macchina la stai rompendo guai 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 494 dei vida è bellissima la macchina di domenico guarda ragazzi si sente anche il rumore che cambia marcia è bellissimo è bellissima la macchina di domenico 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 è la mia canzone preferita allora raga questa cosa non ha senso da si bim bam 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 safti safti push aia dai te domenico è fissata che sia la persona dai fermo qui un passaggio domenico do me fai un passaggio è stato felice io sto passaggio guarda domenico mo te bloc vorrei un passaggio da te dai ma io non posso raga sto bloccato no però non posso vabbè non posso far passare la radio dove ci fanno le cantoni ma sei passato ma perché sei dentro con me t'ho detto non mi andava di sguida un'altra volta io aspetto domenico intanto ballo ma guarda io guido col mini warthog vai raga vengo col mini warthog vai raga non lo schiacciamo no dai ma non tanto a livello di 19 vai via io che trovo la macchina di quello di quello grazie di Emanuele dai sono acappottato ok sì per ogni cosa sempre primo ciao 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 vai 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 ok oh entrao ridi bene o male così non puoi si stragiare no dai vieni no ah ecco ah ecco sei rimasta a piedi ah ah non è vero tanto non siamo sicuri che stai con la macchina no andiamo anche a cosa nico vai tutti quanti via raga non sta con la macchina raga si sta non sta con la macchina veramente vabbè vabbè fatemi vedere dai io sono di sopra domenico no dai non sto a piedi l'ho buttato pure su vabbè ciao ciao ok possiamo non un po' più traghettare e quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo non lo so con un prossimo video ciao ciao cucetti